Il progetto del Comune di Cremona di riqualificazione del Parco Sartori, che comprende interventi di recupero dell'area ma anche azioni di sostegno sociale e prevenzione della criminalità attraverso iniziative e un'ampia programmazione da attuare, è stato finanziato grazie a un bando regionale con 40.000 euro. Una buona notizia per gli abitanti del quartiere Po, che tuttavia sollevano dubbi sulla fattibilità degli obiettivi indicati, in particolare sulla sicurezza. C'era stato un aumento nell'ultimo decennio del 140% dei furti in casa e addirittura un aumento del 570% delle rapine in casa, cioè con gli abitanti dentro la casa. Qualsiasi iniziativa va bene, purché porti a dei risultati concreti. Per esempio c'è scritto per ben due volte di aumentare la percezione della sicurezza. Ecco, questa è una cosa, speriamo che sia linguaggio burocratico, politico, però lascia un po' il tempo che trova. Bisogna aumentare la sicurezza, non la percezione. Così rischia di essere un po' una presa in giro, dipende da come il cittadino la vive. I piccoli interventi non vadano dimenticati. Il comitato ribadisce una semplice richiesta, l'attesa sostituzione della rete che delimita lo spazio giochi dei bambini. Le richieste sono quelle di rimettere a posto un po' i giochi per i bambini, di cambiare questa rete che già l'ingegnere Pagliarini più di un anno fa aveva promesso che avrebbe cambiato, ma è ancora questa. E soprattutto continuare a pattugliare, a controllare, a passare, perché fra l'altro mi pare che nell'ultima estate la situazione fosse un po' migliorata grazie ai controlli costanti. Le forze dell'ordine credo che facciano quello che possono. I residenti sollevano poi dubbi e critiche verso l'obiettivo del progetto che parla di inclusione sociale delle diverse etnie, anche con la presenza di operatori appartenenti a gruppi di cultura Roma e Sinti e attraverso il coinvolgimento di associazioni, oratorio e mondo del volontariato. Fare un progetto che integri, che metta a confronto le varie etnie, varie culture, eccetera, in modo da creare relazioni, attaccamento alla città. Ma siamo sempre lì, vogliono davvero essere attaccati alla città, vogliono davvero integrarsi con noi italiani oppure no? Ecco, questo non lo sappiamo. Si attende la convocazione di un nuovo incontro per chiarimenti. Altro nodo che rimane da sciogliere, la viabilità e alcuni sensi unici critici, come quello di Via Chiese.